È una Lazio che sicuramente ha gettato le basi, che sicuramente ha dimostrato di avere lo spirito, la qualità, gli atteggiamenti, la professionalità per essere ad alti livelli. È una Lazio che vorrà dimostrare di essere competitiva anche nella prossima stagione, dove saremo impegnati su vari fronti, ma dove, ripeto, l'obiettivo sarà quello di essere competitivi e di cercare di continuare a giocare un calcio propositivo, di cercare di giocare un calcio fatto di attenzione, fatto di generosità e fatto di tanta tanta generosità. Credo che i miglioramenti dovranno esserci, soprattutto per quanto riguarda la maturità e la consapevolezza dei nostri mezzi. Dimostrare di essere una squadra intelligente, dimostrare di essere una squadra in grado di leggere tutte le sue accettature di ogni partita e dimostrare di essere una squadra che con quella mentalità, che con questa mentalità, scende in campo per cercare di vincere la partita. Questo, ripeto, perché vedo che ogni tanto si fa un po' di confusione, questo, ripeto, non vuol dire andare allo sbaraglio, ma, ripeto, vuol dire cercare di non subire gli avversari, cercare di essere attivi in tutte le situazioni di gioco, sia quando la palla ce l'avremo noi, sia quando la palla ce l'avranno i nostri avversari. La società sa benissimo quelle che sono le mie esigenze, le esigenze della squadra, e so che sta lavorando in questa direzione. Come ha messo a disposizione una squadra competitiva l'anno scorso, sono assolutamente convinto che sarà così anche per questa stagione. E' un giocatore importante, questa è la mia idea, questa è anche l'idea della società, e il ragazzo sa quanto lo riteniamo importante per la costruzione del nostro percorso, e lui è un punto fondamentale. Poi dopo è altrettanto vero che il mercato non lo faccio io, ma Biglia è un giocatore importantissimo sul quale punto metto. Credo che ci sia stato un errore, perché credo che Morrison, che è arrivato a febbraio-marzo, fosse un parente, fosse un fratello, non quello di adesso. Si è presentato in ottime condizioni, sia fisica che mentale, sta facendo molto bene, ha delle ottime qualità, è ancora da conoscere in modo più approfondito le caratteristiche del giocatore, può fare credo sia il centrocampista sia il trequartista, ha delle buone qualità, dipenderà da lui mettersi nelle condizioni di fasse sedia. Grazie. Grazie. Grazie.